A tutti gli immigrati, soli c'è l'età, soli fascisti, la decimità, siamo tutti anti-fascisti. Uno di quei quotidiani che ha rinvocato il sangue di Pionco per generare il mio amore, per criminalizzare quello che era successo. Uno di quei quotidiani che ha scoperto messo l'ultima volta a farsi a voi, di venire in questa città, benvenuti in l'alta, naturalmente sotto la campagna liberale, che è scoperta l'ultima scelta. E lui, il cuore, a stretto, deve essere il mio primo pilastro della Lidia. E lui, il cuore, a stretto, deve essere il mio primo pilastro della Lidia. E lui, il cuore, a stretto, deve essere il mio primo pilastro della Lidia. E lui, il cuore, a stretto du campionato in grado alta. E lui, il cuore, a stretto, deve essere il mio primo pilastro della Lidia. Grazie.